Allora una cosa importante ragazzi veramente importante è stare a dorso nudo perché diventeremo un tutt'uno con la farina, con gli ingredienti, con il fuoco e con il porco d'inci. Vai! Vai socio! Vai! Cominciamo col primo testicolone nonché palla! Ok, vai! E il mattarello? Faccio tutta così? No tutta così no, la mattarellata dà, non gliela tagli. Mattarello! Cerata il mattarello, Claudio a mattarello per favore! Intanto sì, bravo così, però una smattarellata ci vuole, ci vuole. Ogni tanto parte il goccetto perché sennò l'impasto non spiana. All'antica basseria, bassa boccante, bassa con funghi, va bene? Ok, attenzione, attenzione, fai di succo. Non c'è un po' di succo, non c'è un po' di succo, non c'è un po' di succo. No, poco poco. No, certo, non c'è un po' di succo. Sì, troppo ai bordi non c'è forza di arrivare, sennò esce fuori. Allora, arriva quella? No, no. Bella, vai, 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 metti a coce, metti a coce. Vai, 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 così intanto, stavo a preparare questa da nonno Cosimo, vai. Ok, allora, ma metti i funghi, eh? Due funghi. Due funghi. e due carciofi. Due carciofi, se ci sono. Era pure l'olive, no? Mi hai detto, no. No, due olive, dai, dai, dai. Basta. Due olive. Peperoni, no? Due passaggiardi. No, peperoni. Poco, 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 poco di carne, guarda la roba che c'è. Niente, niente. Olive le mettiamo adesso o dopo? Adesso, metto adesso. Adesso, non vorrei che si seccano troppo, no? No. Ah, piccolo, ma... Vai. Vai, inserita, guarda, 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 dai. Vai, ok. Cominciamo con l'aggia. Allora, però ci devono dei gusti, eh. Che mai aveva? Cosimo, attento. Eva! Vieni, assi, mi dici i gusti, per favore. Io ti comprendo, mamma mia. No, mamma mia. No, mamma mia, ci vuole altre. Eh? No, io ci vuole altre. Che devo ripaprire, che non ti capisco. E allora chiediglielo, chiediglielo. Vieni. Non ci guadagniamo. Due per la testa. Eh. Guarda come bene, come bene. Mamma mia. Mamma mia, amore mio. Te amo. Te la mangi una pizza. Te amo. Te amo. Chissà che è pronta, chissà che è proprio... Fatela pure a Emi. Fatela a Emi. Fatela a Emi, che fate. Emi, fategli la margarita. Ok, voglio la chiedizione. Zio! Emi come lavora la pizza. Vero? Allora, Nonna Rosa, funghi, olive e mozzarella. Funghi e mozzarella. Funghi e mozzarella. Non di la forbice, non di la forbice. Facchetto. No, ma non lo sprecate. Eh, va bene. Non lo fanno bene. Come fai? Che panetto? Quella Dieni, non lo sprecate. Mi sa che le... Mi sa che le uniche forbici sono quelle. Eccola. E così almeno c'è pure per aperitivo domani. Ma aperitivo domani e apericelano vanissima, dai. Fiamo tutte le potatine e robetta così. Ma sai che sta mozzarella è uno spettacolo? Ma si, e pure la comoda. Ma ne sai che mo mi imparavo pure io a prendere questa qua. Senza che frugli niente, senza che spanetti. Eh. O chef si avvicina a chi è. E chi è? O chef si avvicina a chi è. Ragazzi un complimento se lo vuoi. Per favore. Per favore. Per favore. Ecco. O chef è il capofuoco. Ho capito. Guarda. Io no. Ma domani non è arrivata. Allora, zio tu sì. Sì, penso da ora che è arrivata. Tu come vuoi zio? Olive. Olive e salsiccia. E basta? Sì. Bella Dizia. Faresce. Ma anche Alice è già giù. E voi? Faresce. E scusate, e Alice non ha la penzema? Ma anche te fai. Ma Alice non ha la penzema. Faresce. Ma Alice non ha la penzema. Faresce. Ma come è la pizza tua? È buona. Non toglie. Sembramento. Ah. Magni, vai. Mi si chiama con la polvo. Vai. No, muo con la polvo. Tu ti fai con la penzema. Lo chabò. Lo chabò. Secondo me tu ti fai con la penzema. Vai. Cazzo! Ci rimane soppure. Cazzo a crudo. Ti senti tutte a piccante, raga. E ci rimane soppure. Aspetta che continua a cazzare. Ci rimane soppure. No, 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 no. Mi serve per... Ok. Mamma mia. Mentre... Vai, vai. Porco. Chi? Ogropoi, te bobo se vuoi dirla comunque. Poi, caprovici. Ogropoi, te bobo se vuoi dirla. Buono però, oh. Ma davvero. Ma te lo facciamo pure noi, una piccante, socio. Eh? Te lo facciamo. Ma sapete che potete fa'? No. No, non chiedo. Ah, si. Ferma, costa il 14 mila che c'è stata un po', no? Sei... sei... nove... Eh, io sta mattando, eh? Ti sta mattando, eh? Scusa, avete ancora il salamino piccante? C'è due fette, però soppermi nulla. Che cazzo vuoi, dimmi? No, perché si mangia quella del zio Marione. Perché? Perché avete messo pure il cuore del vino dentro, eh? Allora, questo è del zio Marione, perciò il salamino mettiamo subito. Uno qua... E due qua... E tre qua. Cazzo di tavola, vedi? Dai, costa terza! Eeeh! Non mi dici quant'è la pesta di vite! Porco, dici, quest'altro mi dice che io le faccio le cracche, lui le fa le cricche! Eeeh! Che cazzo! Acagaina! 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 Non si dicono queste cose! Bravo, guarda che... Corfiore! Guarda che belmetti! Mannaggia la... Guarda che belmetti! Ma lo vedi che robetta? Ma guarda come piangia questa mozzarella... Ma guarda come piangia questa mozzarella... E' unica cosa che non ci vuole! Ma la zia Antonio ci penso! Metti gli uste, i punti... Eh, bene, bene! Aspetta! I calciotti, le olive, e tutto quanto! Come ci voglio cucciolotto? Vieni qua! Devi proprio... Devi essere armonioso! Quando ne metti la cesta? Dove ne metti la cesta? La devi mataggiare! Guarda, guarda! Gli fai un letto di mozzarella... Ok? E poi gli metti... Vedi? Andamelo poi a lei! Poi ci metti quello! Due carciofini gli metti perché si merita! Allora, guarda eh! Un carciofino lo metti qua! Anzi, tre carciofini! Guarda! C'è Antonio! Sia Manu! Emi! La poesia si comincia a creare! Poi, dopo... Metticelo a mi uste al tuo! No, no! Come no? Sì! Metticelo! Aspetta! Il peperoncetto... Guarda che gli diamo un po' di colore! Guarda che c'è una poesia! Antonio! Oh! Ti sto a fare una pizza! Ti sto a fare una poesia! Beh! Io l'ho mangiata! Mortacci! Tu ha mangiato! Io che sto a fare qua? A chi la sto a fare? Tu zia! Ho mangiato qua la tizia Marione! Ma ti piace una cacarella! Ma come me lo dici? Ma tu te droghi! Oh! Ti sto a fare una poesia! Ti mangi pure questa! Ma frega un cazzo! Ma te la mangi! Ha fatto Evi e Antonio e Manu e tu! No! Vabbè guarda che bello! Ecco ti è! Manu! Antonio! Evi! Ma che so! E' il picazzo della pizza! Hai detto bene il picazzo! Ma perché il tonno ne lo metti? Vai! Vai! Un po' metti! E glielo proprio! Glielo adagi! Guarda! Uno! Che c'è? Non c'è! Quel... Mi pare che lo sento! Il retro gusto c'è! Ma ce l'avrà messo il tonno! Mamma mia! Io penso che questo va a cagare! Il bagnasciuga stasera! Sì! Però un pezzetto di vista ci manca! Dai! Un pezzettino! Dai! Dopo! Ah no! Giusto! E' insomma! Ma la mia pizza si sta affumicando! Sì! 4.2 di pizza! E' originale la sua! Molto affumicata! Alè! Dove ce la facciamo nel mare con la calessa? Vai! E ora dovemo riempire pure la pizzetta palessio mio! Che se deve rimettere in forze! Perché ha detto che ora che arriva... Lo chiamano dall'armeria! E gli serve nei forze no? Giusto va? Certo! Quindi cominciamo! Ok! Vai! Fiamo pure qua un bel lettino di mozzarella! Sempre a modo di poesia papà! Fai eh! La metto un po' come che era! Ok! Vai! Tira questo approvvigionamento! Vai! Sì! Sì! Surprise motherfucker! Giusto? Ok! Se ci piace tanta la mozzarella no? Eh beh! Va bene! Poi se la metti un po' sul marmo per me è uguale! Ancora io la devo alzare dopo quella! Sì sì sì! Se ci vuole il palanco se ci vuole! Un po' di marciapietino qua! Vabbè! Ci direi! Buttala un po' come base pure questa! Sì! Certo! 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 Ok! Quando ti va a mettere a sera dopo la mangia questa! Sì sì! Certo! Non ti preoccupare! Non ci sono problemi! Ok! Perfetto! E' un lettino delle salciccette macinata! Ok! Ok! Ma fai questo lettino dei peperoni! L'ettino dei peperoni pure di me va eh! Ok! Ok! Allora come vengono vengono! Ne mettiamo uno qua! Fa tutti i lettini! Ne mettiamo uno qua! Allora va pure questa qua! Un'altra poesia! Ti ricordi che sono sempre il Picasso della pizza no? Sì! Bene così! Calcioferi? Tu calcioferi ce li metti? Uno metticelo dai! Sì! Al centro? Sì! In modo che metti pure un altro peperone! Un po' di tonno ce lo vuoi? Il tonno vai! Abbonda! Abbonda! Fai un altro lettino di tonno vai! Allora va del tonno! Lo porto subito va del tonno! Ok! Ok! Un altro lettino di tonno vai! Un altro lettino di tonno! Vuol dire che voglio fare proprio schifo? Ok! Ma sì! Dai che non è che fanno tutte le sere di pizza papà! Vai! Vai il lettino di tonno papà! Va del tonno! Vai va del tonno subito! Torno subito! Ok! A posto! Due olive mettiamo dopo! Butta stu olive dopo! Dopo! Fa una cosa! Buttaci sto piustel! Vai dai! Sì dai! Fa un po' schifo! Pure te spagna dopo ho programmato per andare giù a... cosa? Al fiume papà? No! Vado su Giova Marana! Un po' come cazzo deve fare! Faccio zitto papà vai! Buttaci su tutto papà! Sì vai! Che cazzo! No ma è troppo! No! Vai vai vai! Mi metti io come una tia davvero! Mi sa che la mia è un po' peggio eh! Mi sa che la mia è un po' peggio eh! E oggi io non lo so questa come la metti su eh! No per me si può coci pure qua sul marmo! Metti ne un e mezzo al centro! Zii metto quello che rimane al centro i piedi! Ma se che mi stelle è tanto! Prova che buono metti metti! Venisci! Non è troppo pesante! Zii metti ne be... Zii si aspetta! Vabbè dopo ci manca pure... ovviamente mettaci sopra due funghi! Vai! Eh! Vai! Vedi ti faccio usare in cliente il compi! Prima che ti faccio sprecare! Dopo sopra! Ovetto al centro e svorti! Vai! No dopo dopo! Ovetto al centro sopra! Un chile e mezzo! E' arta quanto casa mia! Sì! Bitch! Bello! Vediamo se gliela fa... Aspetta eh! Sì! Bello zio! Sei grande! Sei grande! Sei grande socio! Vediamo l'infornaggio! Così con te posso fare le pizze socio! Zucchia! Quella lezzina mi sa che è fatta Zii! Dai una controllata! Fatta sta pizza! Come te la fai? Eh! La carico tutta lei! La fai come la mia? Ho detto tutto però mi sa che non ci metti i carciofini! Noi vediamo! Ma vuoi ben gotto o va bene così? Vabbè! Oddio con tutta sta roba! Fa la cosa in tre minuti adesso! È il momento sì! Sì! Ma vuole va? È quel momento vai! Ok! Vediamo l'estrazione! Riprendi l'estrazione! De Raiden! Vai la pista De Raiden! Grande! Mamma mia! È un'opera d'arte raga! È un'opera d'arte! Guarda papà che pizzetta questo che fanno fatto! Eh sì! Guarda che pizzetta! La porta pure al tavolo! Vai! Sì! Qua c'è proprio tutto! La cigliaccina sulla torta per papetto mio! Tiè! Tiè! Guarda papà come te vizia! Guarda papà come te vizia però eh! Eh! Papà come te vizia eh! Siuc! Vai! Ok? Vai! Buon appetito a lei! E le ultime non meno importanti le pizze dei chef e dei pizzaioli dei campioni! Fatte! Anche queste proprio cariche di proteine, vitamine, carboidrati, chi più ne ha più ne metta! E niente! Il video finisce qui! Vi raccomando ragazzi! Spolliciate! Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto! Lasciate un like! Una campanella! Attivatela se ancora non l'avete fatto! Ci vediamo al prossimo video! Ciao da Gegé e Capezza! E Raiden! Bye! Ciao! 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 Grazie a tutti